Partiamo col dire che il film ha ricevuto un successo veramente notevole e diversi riconoscimenti. In Italia è stato già premiato al Giffoni Film Festival e adesso a breve uscirà al cinema. Cosa si aspetta dal pubblico italiano? Ma in realtà è il mio sogno che questo film possa essere visto da un pubblico sempre più allargato, sempre più ampio, che possa portare magari ad avere una nuova prospettiva, un nuovo punto di vista sull'essere genitori. Quindi magari che le persone vadano a vedere questo film insieme a degli amici, che una volta usciti dal cinema vadano a bersi un bicchiere di vino e parlino, discutano di quello che è l'argomento che viene raccontato, di quello che è il tema e le riflessioni che suscita, quindi che parlino magari della propria vita, della vita dei propri amici, di quella che è la condizione del paese in generale, perché è un argomento molto personale, è un qualcosa che ha a che vedere con la famiglia, con l'essere genitori, che però solleva una serie di domande e quindi mi piacerebbe che il pubblico poi ne parlasse. Ovviamente trattandosi di una commedia mi auguro che la commedia arrivi al pubblico, peraltro so che è stato doppiato in italiano, quindi spero e mi auguro che nel doppiaggio, comunque la parte divertente, perché per me è molto importante, arrivi, perché poi il film è umorismo e emozioni e spero che questi vengano colti dallo spettatore italiano. Quello di Rachel è un personaggio straordinariamente imperfetto, quanto è importante al giorno d'oggi offrire al pubblico e in questo caso alle donne, dei personaggi imperfetti in cui riconoscere i propri turbamenti? Lo trovo estremamente importante mostrare la donna in tutti i suoi aspetti, da tutti i suoi lati e non come una sola cosa. E quello che abbiamo appunto cercato di fare con questo film, con Raquel, che vediamo e siamo a fianco a lei, siamo con lei anche nelle scene più personali, più private, ma lei è sempre sincera, è sempre onesta e sin dall'inizio abbiamo voluto raccontare la storia di questa ragazza norvegese, ventenne, che fosse assolutamente naturale, autentica, che non fosse patinata, sia Inge che io ne abbiamo parlato a lungo, però anche perché siamo entrambe madri di adolescenti. Volevamo che questo personaggio fosse l'esatto opposto di quello che vediamo sempre più spesso sui social media o sulle serie tv, questa patinatura, questa ricerca, diciamo, della perfezione, questo tentativo di sembrare e di essere qualcun altro. Invece volevamo che fosse assolutamente reale, fosse assolutamente autentica, che non ci fosse nulla di costruito da questo punto di vista, Raquel è assolutamente forte, anche se per altre cose è molto fragile, ma volevamo mostrare lei per quello che era con tutti i suoi difetti e ci auguriamo che questo possa essere anche una fonte di ispirazione e quello che abbiamo voluto realizzare era appunto una persona che fosse anche fin troppo diretta, forse anche brutale nell'essere diretta, nell'essere sincera, ma per noi era importante che fosse onesta e autentica. Questo vale anche per i personaggi maschili, perché abbiamo voluto raccontare i personaggi maschili anche in senso appunto diretto, in senso autentico e sincero. Nel film viene affrontata anche la tematica dell'adozione e soprattutto vengono affrontate tutte le complicanze legate a questa pratica. Come si è documentata per trattare questo argomento? Trattandosi di una commedia ovviamente abbiamo dovuto fare dei compromessi, ovviamente ho fatto tanta ricerca, ho incontrato anche le persone che si occupano di procedure per l'adozione e quindi ho fatto lunghe chiacchierate anche con i genitori che hanno seguito tutto questo percorso, questa procedura, questo processo estremamente complesso, estremamente lungo e complicato. Ho parlato anche per esempio con persone della mia età che hanno seguito tutta la procedura e devo dire che per loro c'è anche molto forte questa sensazione di nervosismo perché magari hanno timore di non essere accettati, quindi vanno a questi incontri cercando di presentare la migliore versione di sé come genitori, presentarsi come il miglior genitore possibile per timore di non vedersi assegnato un bambino mentre il loro sogno è proprio quello. E quindi è stato anche interessante mettere Rachel in questa situazione, in questa condizione di nervosismo, di tensione, in contrasto perché lei è lì, è nervosa e non vuole questo figlio mentre gli altri fanno di tutto per essere accettati e visti come bravi genitori perché il loro obiettivo è quello di invece farsi assegnare un figlio. E in questo film io ho lasciato anche molta libertà a Cristina, l'attrice, l'ho lasciata molto libera di improvvisare, devo dire che è stata bravissima, è stata fantastica al punto tale che poi io in realtà siccome ridevo tanto sono stata costretta a uscire dalla stanza non potevo stare lì con lei, però questo conflitto, questo contrasto fra il desiderio di essere genitori e lei che non voleva averlo, il figlio, è stato molto bello, è stato molto interessante e tra l'altro volevo rappresentare proprio l'isteria perché molto spesso capita che le donne quando sono arrabbiate o quando sono molto determinate esprimono magari le loro opinioni e il loro parere in maniera anche forte, vengono subito trattate come isteriche, gli si dice sei isterica e questo è un modo anche per sminuire le donne e quindi volevo proprio giocare con questa cosa, volevo parlare di questo e ovviamente affrontare il discorso dell'adozione che appunto ha peraltro sistemi e procedure diverse nei vari paesi, trattandosi però di una commedia abbiamo cercato ovviamente di raggiungere il compromesso giusto ed è divertente però c'è anche molta verità in quello che noi abbiamo realizzato, abbiamo cercato di trovare l'equilibrio giusto per poterlo raccontare in maniera divertente Ninja Baby è un film che parla apertamente di maternità ma anche di paternità in un modo indubbiamente diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere generalmente nei film quanto è importante definire una nuova immagine di paternità senza fare troppi spoiler per combattere gli stereotipi di genere? Credo che sia estremamente importante ed è parte di questo progetto e in realtà in Norvegia se ne parla da tanto tantissimo tempo peraltro noi non parliamo più di maternità parliamo dei genitorialità dell'essere genitori e soprattutto quando si affronta il discorso di figli dei figli dei bambini avere figli nell'ambito politico si sta anche molto attento attenti alla terminologia che viene utilizzata perché comunque è estremamente importante che il padre sia convolto come colui che si occupa dei figli del bambino che quindi fornisca le cure necessarie sin dall'inizio quanto prima questo succede tanto meglio sarà ed è per il bambino il fatto di poter avere e fare affidamento su entrambi i genitori da questo punto di vista e credo che sia fondamentale e cruciale soprattutto se vogliamo dare alle donne la possibilità di avere una carriera avere una famiglia è importante che il padre sia coinvolto come colui che si prende cura anche dei bambini e questo vale appunto anche per gli asili la necessità comunque di avere asili di avere strutture la società che deve consentire alla famiglia di fare tutto questo si deve anche dare l'opportunità all'uomo essendo aperti proprio di poter semplicemente dire voglio io essere colui che si prende cura dei figli e magari non dire al padre hai messo male il pannolino perché al bambino fondamentalmente non importa magari il pannolino può anche essere messo male va bene così bisogna aprire la propria mente e anche la società lo deve fare proprio per consentire all'uomo di poter svolgere quest'altro ruolo e comunque sentirsi e percepire il rispetto in ogni caso grazie mille thank you grazie mille Grazie.